L'Ebron James firma coi Lakers e viene in vacanza nella costiera amalfitana. Quando i campioni dello sport scelgono la nostra terra come luogo nel quale trascorrere le proprie vacanze, è sempre un motivo di orgoglio. L'arrivo della stella americana del basket, The King, fresco di trasferimento milionario ai Los Angeles Lakers, testimonia che le bellezze della provincia di Salerno su tutta la costiera amalfitana sono tra le più amate e visitate dai turisti di tutto il mondo. Non è un caso se nella costiera le stelle che arrivano in vacanza sono la normalità. James, arrivato all'aeroporto di Salerno, è arrivato a Maiori, dove su una nave trascorrerà le sue vacanze a Positano, presso la suggestiva isola Ligalli a forma di delfino.